leca blocco tramezza lecalite un prodotto quattro sistemi applicativi dall'argilla espansa leca materiale naturale e certificato anabicea per la bioedilizia unita all'esperienza leca blocco di oltre 40 anni nel settore delle murature nasce leca blocco tramezza lecalite in spessori 8 10 e 12 centimetri nelle versioni pieni e semi pieni lecalite è la tramezza d'incastro sui quattro lati con ottima resistenza al fuoco e isolamento acustico solida robusta e veloce da posare le tramezze lecalite si possono posare con la malta universale o con boiacca di cemento è possibile anche la posa a secco con schiuma poliuretanica in entrambe le soluzioni poche semplici fasi di lavoro consentono di completare la posa in opera il primo corso si posa con l'incavo verso l'alto è importante controllare sempre che la posa sia in bolla è sufficiente posare malta fluida lecalite nell'incavo e posare il blocco successivo senza malta in verticale eventuali tagli si possono realizzare con seghe elettriche o da banco flessibile o tranciatrici l'utilizzo di un architrave metallico a U favorisce la realizzazione delle aperture la chiusura sotto solaio può essere fatta con malta tradizionale le tracce per gli impianti possono essere realizzate facilmente con scanalatrice a fresa o a disco e sono ripristinate anche con la stessa malta lecalite chiodi o tasselli tradizionali possono essere utilizzati senza problemi per fissare i carichi anche pesanti la tramezza può essere lasciata a vista oppure tinteggiata sono possibili finiture con intonaco sottile tipo rasatura oppure con intonaco tradizionale le tramezze lecalite hanno una resistenza al fuoco certificata fino a 180 minuti si possono così ottenere le migliori prestazioni tagli a fuoco con bassi spessori lecalite si può posare anche a secco utilizzando schiuma poliuretanica specifica per murature basta stendere uno o due cordoni di schiuma nel giunto orizzontale e procedere velocemente con la posa è possibile completare una tramezza lecalite di 10 metri quadrati solamente in un'ora dopo poche ore la parete è pronta per essere rifinita la tramezza lecalite completata con l'incollaggio delle lastre di cartongesso mantiene tutti i vantaggi di un sistema secco con la solidità di un muro tradizionale nelle ristrutturazioni il sistema lecalite è particolarmente adatto per le tramezze da realizzare su pavimenti esistenti perché è semplice da installare e garantisce la massima pulizia di cantiere grazie al suo elevato isolamento acustico lecalite può essere utilizzata anche come divisorio leggero e in basso spessore LecaBlocco tramezza lecalite un prodotto quattro sistemi applicativi scopri i prodotti LecaBlocco su lecaBlocco.it